Pista ciclabile, progetto bellissimo, però non viene portato a termine. Qual è la verità, qual è la situazione? Ha ragione, uso un termine forse sproporzionato. Questa via verde è vitale per l'economia della nostra regione, non di Fossa Cesia. Significa turismo, significa lo sport che voi praticate. Qui arrivano da tutto il mondo, perché ascolto anche i ristoratori durante il periodo estivo ovviamente che erano aperti. Ci sono dei problemi, intanto questa è la provincia. Io l'ho curato come impegno iniziale quando assieme a Giovanni Nativio, che non c'è più, vicepresidente della provincia, io giovanissimo, abbiamo posto un veto nel piano territoriale e provinciale. Quest'area dopo l'abbandono delle ferrovie doveva essere di uso pubblico e tale è rimasto. Quanto tempo ci vuole per avere quest'opera compiuta? Da quello che sento dire, ovviamente leggendo anche i giornali, aspetto che il presidente poi convochi tutti i sindaci, durante l'estate dovrebbe aprire. C'è una difficoltà tra imprese e amministrazione provinciale. Spero subito, perché questo comunque è un cantiere e la gente che arriva a vedere questa situazione così, come dire, posso usare un termine improprio, ci sputtana. Grazie a tutti.